Buongiorno, prima di questo video vi mostro che io, laureato in architettura, nel mio piano di studi ho dovuto superare esami come analisi matematica 1 e 2, fisica generale 1 e 2, geometria descrittiva 1 e 2, chimica 1 e 2, mineralogia 1 e 2, fisica tecnica e meccanica razionale. Insomma, non sono uno che non abbia fatto i suoi studi, per cui chi sostiene che io non conosca la matematica e la fisica, che sono stati oggetto di studi accurati nel mio corso di laurea in architettura, è o non è un diffamatore? Sì, perché presume che io non abbia studiato nulla, e invece io ho fatto gli stessi studi che fanno i fisici e i matematici. Buongiorno dunque amici, oggi desidero descrivervi in numeri un apologo famoso di Achille e la tartaruga. Achille, il più veloce, è veloce più della tartaruga, ma non riesce mai a raggiungerla, perché quando arriva dove era la tartaruga quella è più avanti. Riprova, arriva nuovamente dove era la tartaruga, ma è sempre più avanti. E andremo all'infinito, ma la tartaruga sarà sempre più avanti. Insomma, sembrerebbe che Achille non riesce mai a raggiungere la tartaruga, quando invece abbiamo la prova che raggiunge la tartaruga e la sorpassa. Ora facciamolo, questo esempio, descrivendolo in matematica. Achille è veloce un mezzo, la tartaruga è veloce un quarto, potrà mai un mezzo raggiungere un quarto? Se fossero numeri e non velocità, con 0,5 meno 0,25 uguale 0,25 di percorso, Achille l'ha raggiunta, poiché un quarto è fermo in 0,25. Ma se sono in velocità, riferite allora ciascuna, si pone al quadrato e un quarto al quadrato diventa, e un mezzo al quadrato diventa un quarto. Ma un quarto non è più lì, poiché un quarto al quadrato è un sedicesimo. Potreste dire che la corsa di Achille uguale un mezzo non consista nel moltiplicarsi per un mezzo? No, non potremmo dirlo, quando la corsa di C, la velocità della luce, sta nel suo quadrato e la corsa di V, un corpo, sta nel suo quadrato. Lorenz, riconoscendo dal teorema di Pitagora che una linea nel contesto ortogonale dello spazio dipende dal suo quadrato, apposto le velocità al quadrato, in questa maniera c al quadrato diviso per V al quadrato, dando, badate bene, per scontato che V al quadrato sia sempre inferiore a C al quadrato. Rivolgendomi, credo, spero, a persone intelligenti e autonome nel loro giudizio, faccio loro questa domanda. Possibile usare questa supposizione per dimostrare che non è una supposizione? Einstein fa questo e dice che poiché la velocità della luce è insuperabile, questa è la prova che la velocità della luce è insuperabile. come a dire, poiché mai Achille raggiungerà una tartaruga che si sposta, Achille non raggiungerà mai e non supererà mai la tartaruga che si sposta. È partito da un presupposto e con quel presupposto dimostra il suo stesso presupposto. è una stupidaggine, ma allora come stanno veramente le cose nel fattore di Lorenz che è C diviso per la radice quadrata di C al quadrato meno V al quadrato? Abbiamo che se la velocità di 299.792.458 metri al quadrato si riduce per esempio a un solo metro quadrato allora gamma diventa 299.792.458 diviso per 1, ossia per C fratto C il che è uguale a 299.792.458 volte per 1 e abbiamo che la velocità della luce è 299.792.458 volte maggiore di C su C, ossia di 1. questo dimostra la Lorenz che se riduci il quadrato di C solo a un metro quadrato hai che la velocità della luce è 299 milioni di volte più veloce. è evidente che a un infinitesimo di area mancante corrisponderà sempre un infinito ma che quest'area mancante non possa essere zero è solo una supposizione che io definisco infelice che uno non possa mai arrivare a toccare un muro con un dito perché manca sempre uno spazio divisibile all'infinito tra il dito e il muro è la stessa cosa, eh? pensate il genio di Einstein è caduto in questa trappola praticamente di Achille e la tartaruga ma ancora più semplice del mio dito che tenta di toccare il muro ma non ci riesce mai perché lo spazio tra il dito e il muro è divisibile all'infinito e non si può mai raggiungere l'infinito figurati se superarlo va detto che un'area che ha il lato dato dai metri percorsi dalla C in un secondo essendo C una velocità elettromagnetica non ha per vero lato C ma C mezzo elettrico più C mezzo magnetico e allora la somma di un mezzo elettrico e un mezzo magnetico diventa 1 infatti dalla sola presenza che sta sempre in un quarto dell'area C2 dalla radice quadrata di un quarto di C2 risulta un mezzo di C insomma abbiamo un quadrato in cui il lato dello spazio presente in un quarto cioè nel solo tempo un quarto dello spazio tempo che è 4 è per metà elettrico e per metà magnetico con ciò basta la velocità di una massa che in un secondo percorra solo la metà del percorso di C per arrivare a coprire il massimo della presenza di un ottavo di tutto il complesso dell'area infatti un mezzo al quadrato copre un quarto poiché Einstein afferma che la velocità della luce è insuperabile è smentito dal fatto che la presenza della C in C al quadrato è solo un quarto di C al quadrato e dunque è un mezzo di C appena il corpo supera la metà dei metri percorsi dalla C in un secondo comincia la sua reale escalation essendo già più veloce della C mezzo ossia nel solo valore elettrico della C e avendo invaso il contesto magnetico quando il corpo arriva al doppio della velocità C e al limite del lato non ha alcun muro che gli è posto la limite e semplicemente lo supera la C2 non è nessun muro invalicabile e in verità essendo il lato C percorso dall'elettromagnetismo metà nell'elettrico e metà nel magnetico l'apparente piano C al quadrato in verità è C al quadrato al quadrato ossia è C elevato a 4 ossia tutta la sua realtà quando il fattore gamma di Lorenz è uguale a 2 smaschera di essere 1 in unità elettrica e 1 in unità magnetica se il piano C2 fosse di acqua ridotto alla presenza un quarto del tempo deve velocizzarsi per 4 per poter contenere lo stesso volume in un secondo infatti un quarto per 4 completa i 4 quarti del volume nel suo intero quando il piano invece è di C elevato a 2 il piano un quarto è ancora espresso in area e il denominatore della gamma di Lorenz lo presenta nel suo lato che è dato dalla radice quadrata di un quarto ed è per quello che si rivela poi ridotto ad un mezzo di C invece per l'acqua la sezione un quarto è quella che è una area e si moltiplica al flusso 4 perché il volume resti unitario un volume dato da un'area per una linea di flusso la Lorenz applica il ricorso al lato dell'area della sezione e come risultato ha che il rapporto che ne deriva è puramente lineare e il risultato è la radice quadrata del 4 che è valido per l'acqua e pertanto nella radice di 4 risulta 2 se riducessimo la sezione a un centesimo nel caso dell'acqua la velocità per portare avanti tutto quel flusso in un secondo si deve moltiplicare per 100 nel caso della luce non abbiamo il rapporto area linea ma linea su linea per cui la radice quadrata di 100 è il fattore gamma e risulta 10 ma è un confronto insulso fondato sul presupposto arbitrario che una massa non possa superare la C come se un dito non possa mai arrivare a toccare un muro fermo se la distanza è spinta fino all'irraggiungibile infinitesimo invece per superare la C di puro riferimento basta che un corpo arrivi a C mezzi avete capito è incredibile come un genio come è ritenuto Albert Einstein e tutti coloro che gli danno corda perché non è rimasto da solo questo genio c'è tanti altri geni tutti i geni che credono che poiché lo spazio tra un dito e un muro è divisibile all'infinito io non posso mai raggiungere l'infinito e di conseguenza non posso mai toccare il muro è lo stesso ragionamento che è fatto quando invece del muro viene messo a riferimento un sistema in varianze come quello della C saluto tutti e auguro buona giornata